Ciao a tutti, sono Giovanni Stanzani, Ingegnero e Ingegnero in divisione di Propulsion Solution in Marelli. I mechatronici sono usati nell'industria automotiva per controllare e controllare diversi elementi funcionali del carro. I mechatronici consistono di un motore elettrico, un treno kinematico per trasformare o adattare la velocità, forza e l'esternale per proteggere e scegliere i componenti internazionali dall'ambiente. I mechatronici sono usati un elemento sensore per monitorare la posizione del carro. I mechatronici sono usati un modulo elettrico per controllare autonomamente l'attuatore e lo collegare al network elettrico elettrico. In questo caso sono chiamati smart actuatori. I mechatronici sono usati più di 100 attuatori, tutti con diversi missioni e purposesi. I mechatronici sono diversi tipi di attuatori Relevance e la sicurezza, l'esercizio, l'ambiente, l'ambiente severo, le operazioni precisi e rapidi. Queste sono le principali funzioni che abbiamo ricevuto. Le principali funzioni dei prodotti di Marelli vengono dalla competenza del sistema di Marelli. Marelli ha un background solido in attuatori per controllo di engine e trasmissione. Abbiamo prodotto circa 5 milioni di attuatori per anno per guidare turbochargers, controllo di intacità di engine e caratteristiche. Ora stiamo estendendo il nostro portfoglio al mondo dei veicoli elettrici per supportare i nostri clienti in questa transizione strategica. Stiamo sviluppando attuatori per controllare i axoli e-axoli come per clock, disconnecchi e 2-speed attuatori e attuatori per il gestione termale dei veicoli elettrici elettrici. Nel segmento precedente lavoriamo in collaborazione con la team di Marelli termosoluzioni di Marelli. L'attuatori devono essere integrati sia nei ambienti meccanici e elettronici. La integrazione meccanica traslata in la forza e la velocità e la velocità, anche per assicurare le condizioni necessarie e le condizioni ambientali. L'integrazione elettrica significa una comunicazione stabile e relazionata. La principale avventura dei prodotti è la esperienza di Marelli di sistema di Marelli. L'integrazione è la nostra principale competenza. Non offriamo solo dispositivi meccanici ai clienti. L'integrazione stabile e integrazione in ambienti meccanici e elettronici. in ambienti meccanici. L'eccellenza necessita un monitoraggio continuo e attivo di bothi le funzioni necessarie e l'attività. Abbiamo scoperto le aspettazioni di clienti, i prodotti di competitor e i target interni. Questo set di informazioni definisce come un prodotto avvicinare. i nostri ingegneri trasformano i target in soluzioni e funzionali implementando soluzioni in un prodotto finale. Abbiamo esperti in meccanica, elettronica, software e test basato all'interno del mondo. Le persone in diversi paesi partecipano insieme in mesi e workshop per creare un sviluppo homogeneo e sincrono sviluppo sviluppo Quando ero solo 5 anni mio papà mi ha iniziato a show e eventi motosport come Rallys e Formula 1 quindi ho iniziato a sviluppare interessi in l'automotivo Quando ho finito capito che non potessi diventare un pilota e ho applicato ai libri e ho applicato all'ingegneria e questo è tutto. Come gestione di ingegneria mi sento davvero orgoglio quando la mia squadra è molto coinvolta e comprometta a trasformare idee, indicazioni e principali in un nuovo prodotto. Vedo un nuovo sviluppo e la squadra cresce solidamente con la squadra è davvero satisficante.